Secondo giorno del viaggio postolico in Canada per Papa Francesco. Ieri ha incontrato le popolazioni indigene e a loro il Pontefice ha detto nulla può cancellare la dignità violata, il male subito, la fiducia tradita. Ascoltiamo. Nel secondo giorno di viaggio in Canada Papa Francesco ha voluto incontrare le comunità indigene. Con comozione e sofferenza il Pontefice ha ricordato loro che nulla può cancellare la dignità violata, il male subito, la fiducia tradita. Nella Chiesa del Sacro Cuore dei primi popoli a Edmonton Francesco ha invitato a cooperare per una riconciliazione che non sia una sorta di pace calata dall'alto, per assorbimento dell'altro, ma un annuncio di Cristo in libertà e carità. E così il Pontefice rimette a fuoco il principio guida dell'educazione, la promozione dei talenti e non l'imposizione di qualcosa di preconfezionato. Si sofferma sul significato autenticamente evangelico di riconciliazione. Non tanto un'opera nostra, dice, ma un dono che sgorga dal crocifisso. Papa Francesco viene accolto nell'ATP dove è posizionato l'altare. In questa casa, Chiesa del Sacro Cuore dei primi popoli, una delle più antiche della città, Francesco arriva per il secondo incontro tanto atteso della sua visita nel paese nordamericano. Padre Susa Iesu lo accoglie mentre risuonano gli applausi e lo ringrazia a nome della comunità parrocchiale degli indigeni. Da molti anni è un luogo sacro di incontro, dialogo, riconciliazione e servizio, dice. Qui, come il Papa riconosce, confluiscono autoctoni e discendenti degli antichi colonizzatori e la fede cattolica è espressa nel contesto della cultura aborigina. Reduce da due anni di lavoro o di restauro per riparare i danni di un incendio, è diventata casa spirituale per molti immigrati e rifugiati. Il Papa si compiace dell'opera portata avanti nella parrocchia, dove le azioni concrete e necessarie per un efficace processo di risanamento delle ferite della storia e auspicate nell'ambito degli incontri con gli indigeni in Vaticano nella primavera scorsa sono già state avviate. Ringrazia anche per la vicinanza ai tanti poveri con opere di carità. Ecco una casa per tutti, aperta e inclusiva, ha detto il Papa, così come deve essere la Chiesa, famiglia dei figli di Dio dove l'ospitalità e l'accoglienza, valori tipici della cultura indigena, sono essenziali. Papa Francesco ha chiesto perdono con dolore per il male subito dalle popolazioni indigene e il cui pensiero lo ferisce. E poi il monito, quello che è accaduto nella Chiesa non capiti più.